L'economico è sotto gli occhi di tutti e viviamo nella provincia da anni, io sono nato a Sanremo e prima di chiudere una struttura del genere bisogna pensarci bene. Naturalmente dobbiamo avere le risorse e vedremo domani se questi che sono gli impegni di oggi verranno tramontati da un punto di vista pratico. Le risorse sono necessarie per pagare i servizi, per pagare i dipendenti, per tenere aperta la struttura perché una struttura non si tiene aperta senza ricavi. Lei è il dottore? Boria. 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 Paola.